I principali figuranti della 727esima edizione della perdonanza celestiniana dell'Aquila sono stati presentati questa mattina. Essi prenderanno parte al corteo storico che nel pomeriggio del 28 agosto procederà all'apertura della Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, momento che segnerà l'inizio della perdonanza, l'indulgenza plenaria voluta da Papa Santo Celestino V con la bolla del perdono. La dama della bolla sarà Marianna Capulli, insegnante alla scuola primaria del quartiere Torrione. Toccherà a lei condurre l'astuccio che contiene la riproduzione della bolla celestiniana. Mi sento sicuramente onorata soprattutto perché rappresento il mondo della scuola a tutto tondo, mondo che io amo profondamente. Inoltre la dama della bolla è un simbolo, un simbolo grande della mia città, quindi sono onorata due volte per la mia città e per il simbolo che rappresento. Federico Santilli sarà il giovin signore. Santilli si è laureato in medicina e chirurgia all'Ateneo del Capoluogo Abruzzese ed è stato uno dei primi a discutere la tesi in una sessione in presenza dopo il contenimento della pandemia da Covid-19. Il giovin signore conduce il ramo d'ulivo con cui il cardinale Enrico Feroci batterà per tre volte sulla porta santa della basilica di Colle Maggio per ordinarne l'apertura e dare il via alle 24 ore di perdonanza. Sento davvero molto onorato di rappresentare l'Aquila nelle vesti di giovin signore. Ho sempre sentito questo sentimento di attaccamento verso la mia città essendo comunque 26 anni che vivo qui e per me è davvero un grande onore poterla rappresentare nelle vesti di giovin signore. Martina Ciccone sarà infine la Dama della Croce, iscritta al primo anno della Facoltà di Medicina all'Università dell'Aquila e al primo anno del bienio in pianoforte al Conservatorio di Musica Casella dell'Aquila. di ringraziare per il pieno di cuore.